Essere bella da fuori e renderlo anche sui quadri è veramente una bella cosa. La bellezza che circonda la bellezza. Sì, bravissima, la bellezza che circonda la bellezza. Emotività nei colori, questo è il titolo della mostra della pittrice Mariangela Baldi che dopo aver esposto in tutta Italia porta le sue opere anche in città. La sede dell'esposizione è quanto mai originale, il salone della stilista Lella Pepe che diventa per l'occasione una piccola galleria d'arte contemporanea. L'arte nell'arte è mischiare i colori, i colori del pennello con i colori dei capelli, in questo caso. È sempre stato il mio sogno che tante arti mischiate insieme possono dare un senso all'essere e al benessere. Io dico sempre che quando si guarda una bella cosa ci fa star bene. E quindi io ospito Mariangela che quando guardo i suoi quadri mi fanno stare bene perché mi danno allegria, mi mettono di buon umore e lei mette nei suoi dipinti se stessa che è una donna formidabile, sempre allegra, sempre sorridente e anche i suoi quadri come vede sono fantastici. Io vado dal paesaggio al surrealismo, all'astratto e le maschere per me è il periodo del carnevale. Anzi devo ringraziare l'Alella che mi ha ospitato in questo bel periodo perché è un periodo che dà allegria. Quindi in mezzo all'allegria ci vanno benissimo anche i colori, con più colori sono, con più accessi sono e meglio è. Queste maschere infatti diciamo che danno un attimino un'impressione di quello che sono io. L'ambizione è quella di creare un connubio tra le diverse forme d'espressione della bellezza. La mostra ad ingresso libero andrà avanti fino al prossimo 20 di marzo. Esporre delle opere veramente così bellissime è stato per me proprio eccezionale venire qua con la bambina e vedere queste opere meravigliose in uno scenario che Lella Pepe sa rispecchiare perfettamente. Grazie!